questo è il terzo gruppo 7-8 atleti qui due atleti uno del Borgo Satollo mi sembra uno del Pilota Millennium mi sembra Marco Marco Agazzi nel primo gruppo c'è dentro anche Emanuele Tonelli ecco qui il Pilota Millennium in zona arrivo abbiamo registrato molto poco perché eccolo qui Nicola eccolo qui il vincitore secondo a 5-6 secondi il primo è Ferrari ecco qui questi sono sempre i primi i primi dieci i primi dieci all'arrivo Emanuele Tonelli un grande atleta passista scalatore se la gioca anche in volata si arrivi ecco l'arrivo 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 logicamente il gruppo si è un po' disintegrato arrivano l'arrivo corrado ecco Tanzini Borgo Satollo altro arrivo prima donna dopo ci informeremo le squadre sono tante vengono accompagnati da Nicola bravo Andrea come andata Rigo altri arrivi arrivano uno per uno adesso i primi sono scalatori questi sono molto probabilmente dei velocisti che tribolano un po' una salita molto dura l'arrivo altro arrivo l'arrivo 3-4 seti assieme l'Oda Millennium questo fa la volatina ecco una volata 3-4 ecco Vassabia Casari Cospe Lumerzane uno della squadra veneta non riesco a distinguerli altro arrivo l'arrivo e poi qui arrivano uno per uno pilota Millennium pilota Millennium naturalmente le squadre sono tante io tantissimi non le conosco scusami per il numero scusami per il numero per voi ecco ecco Spinecchi ecco Vassabia la macchina spostatevi il l'ha fatto poca gnaroleo ma